Allora, siamo ancora qua, benvenuti al terzo video di Worms e lo terzo schermo, osservatoio dei ricordi. Sconfiggi tutti i vermi, elimina due vermi, termina la missione con più di 125 di salute, che anche prima l'ho fatta e non so perché non me l'ha dato, annega un vermo nemico. Vabbè, proviamo, intanto giochiamo e vediamo. Allora, chiusiamo e adesso distruggiamo. Questo gioco qua è una birretta, ci sta sempre bene. È rilassante e allo stesso tempo sdervante. Ah, scusate, devo chiudere la porta della camera. Bene, eccomi ancora qua. Ho anche cambiato microfono, infatti dovrebbe risultare la voce un po' più chiara e meno ovattata. Eccomi, pronto? Questa caramita che respinge i colpi non mi piace proprio dietro al QL. Oh, che bello, oh, che bello. Vedo due carri armati. Ok. Devo fare un macello. Dai, focarello, sì. No, proprio dove sono io. Va bene, ho ucciso uno e l'altro l'ho indebolito per bene. Il punto è, come faccio ad affogare un verme qua? Bel tiro di merda. Ok. Bang. Beh, a te ti posso anche dare un colpettino che sei a posto. Opa. Ciao. Vai nel paradiso dei vermi, o in questo caso all'inferno. Bene. Come posso affogare uno? Va. Dai però, muoviti. Oh, che tiro? No. No. Cacchio, giusto. Eh, ciao. Adesso comincio ad arrivare tra parte. Col cararmato, soprattutto. Ho come l'impressione che la partita si stia svoltando in maniera sbagliata. Vabbè, potrei usare comunque la funa. Vediamo un po'. Sperando che ci arriva. Ah, un riparo. Merda. Che errore che ho fatto da stupido. Devo andare dall'altra parte. Vabbè, riproviamo. Voglio prendere quell'energia e vedere quale c'è dentro le casse. Perfetto, così. Eh, ma allora me la cerco, eh. Olleh. Ho il jetpack. E un'altra batteria per il telefono. Che non so che cacchio serve. Che prima l'ho usata e non fa un cavolo. Allora, ho il jetpack. Giusto? Mancano solo 5 secondi, quindi... Aspettiamo. Allora, con il jetpack, se sono furbo, potrei andare dove c'è Jimmy Panzei e sparare a Lino Nell. Se ci arrivo. Sempre se ci arrivo. E ci sono arrivato. Allora, prima di tutto... Fuori dalle balle. Anzi, facciamo... Se io mi metto da questa parte, dite che lo becco? No, ho sprecato un colpo. Bene. E io mi nascondo qua con te. Sperando che non tocca proprio a lui. Oh, io ci ho provato, eh. Vai, vai dentro lì e esplodi. Bravo. Perfetto. Otti lavoro al posto mio. Adesso però una mazzata dietro al culo ti arriva. Oh, fuori dalle balle. Stai lì col tuo amico. Adesso mi massacreranno. Che cavolo è successo? Fuoco, boia! Va bene. Va bene, va bene. Sappiamo come è andata a finire. Si sono autodistrussi. Non capisco come posso affogare uno. Allora, devo stare attento perché qua davanti c'ho un detrito. E allora, se io punto sotto il detrito, tipo lì che la mina... Ecco, la mina, vabbè, è un optional. Chi è che è rimasto? Dove hai imboscato il tizio qua? Ah, è lì sotto. Aspetta che ti venga a prendere. Ah, è solo 23 di energia. Allora, 23 di energia. Con una mazzata non riuscirei a ucciderlo. Con una granata, sì. Ok, faccio... Tac, via. Bene, anche questa partita è conclusa. Sono 232. Lui diceva che almeno dovevo vincere... Con cos'era? 225? No, almeno... Ah, vedi, termina la missione con più di 125 di salute. È la 232. Perché non me l'ha data? Forse perché ho preso l'energia? E non dovevo prenderla? Vabbè. Allora, ragazzi. Al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.